Questa parte tipo la spezia la metta all'inizio Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark House 92 Oggi siamo qui finalmente con il secondo episodio perché ho visto ragazzi gli avete spaccato il like assurdo Cioè in pochissimo tempo siamo arrivati già a 31 like che li avete anche superati Siamo già a 34, 35, 33, una roba del genere Quindi io vi ringrazio, grazie di cuore Comunque oggi abbiamo due ospiti, uno mutato e l'altro che comunque c'è Però potrebbe anche essere che quello mutato si potrebbe smutare e dare qualche consiglio, qualche roba Anche perché come sapete di Minecraft io non so un cazzo Quindi show what's up Bella ragazzi Mi raccomando ragazzi vi lascio il link in descrizione di show what's up Andate ad iscrivervi tutti quanti, mi raccomando supportiamolo Siamo anche in compagnia di Nico Caboni Bella Che oggi ci aiuteranno queste due persone Ad andare avanti sul nostro mondo Anche perché come sapete io di Minecraft non so un ghets Quindi tralasciando questo Allora, eravamo rimasti qui Quindi adesso rompiamo qua Ovviamente E rimettiamo Ok, perfetto Allora, qua ci sono le fornaci Come sapete io ho messo le costolette Quindi GG per le costolette Mangiamo ovviamente Eh sì Mangia Mangiamo Grazie E non mi faceva mangiare Uh pure il pollo Mamma mia Allora mettiamo questi qua Così mentre cuoce E noi E noi ci mangiamo il pollo Ok, perfetto Allora Oggi siamo qui perché dovevamo costruire Praticamente la nostra La nostra nuova casa Ecco come ci dice show what's up Qui intanto abbiamo un po' di esperienza Che non fa mai male Allora io direi che la nostra nuova casa La potremmo costruire qui No? Il deserto Eh Facciamo tipo un po' di spazio E costruiamo la nostra casa La costruiamo qui perché Qui Lì in fondo abbiamo anche Se non sbaglio La lava Cosa? Bellaggi dei villici Hai? No no Abbiamo la lava E la lava potrebbe servirci Eh poi se vai male male A esplorare più il deserto Ci sta che trovi un bellaggio De villager Eh Eh Che poi andremo a razziare Però intanto Cerchiamo di fare Un po' di spazio Per dare vita Alla nostra nuova casa No? Cerchiamo di distruggere Questi pochissimi blocchi Di sabbia Se non sbaglio Sì mamma mia Ma so Già 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 No Questa non è sabbia Eh E questa la sabbia No è questa la sabbia Ah che è apposta Ok Quindi Facciamo un altro pochettino di spazio Ok Eh La torcia Eh Mettiamo anche questo Pezzo qui Ok E Rompiamo Così Perfetto Ok Allora Dovremmo costruire la nostra casa E abbiamo la cobblestone Quindi ci aiuteremo ovviamente con la cobblestone E anche con l'arenaria Quindi possiamo incominciare a fare la nostra casa Quindi io direi di farci Un po' tutto a giro raga Speriamo che basti la cobblestone Perché se no è un casino Vediamo se arriviamo qui Perfetto No Non è perfetto Dovremmo fare tipo Altri due tre blocchi così Perfetto E poi andare a chiudere Ovviamente Questo pezzo Sarà Rimosso Perché ovviamente La nostra casa deve essere pari Cioè non è che Allora Dobbiamo contare Quanti sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici E quindici Quindi La metà di quindici Sette e mezzo Sette e mezzo Va bene Ma sti gran cazzi Allora qui Faremo la porta E sti cazzi Allora Qui dobbiamo rialzare un pochettino Quindi rialzeremo un pochettino di qua E di qua facciamo la stessa Identica cosa Lo alziamo Secondo me Meglio alzarla di tipo Quanti blocchi Tre Tredici Sì perché poi così viene meglio anche la porta Mi sa che dovremmo andare a fare un po' di cobblestone Eh sì Abbiamo già finita ragazzi È assurdo Come si fa a finire così velocemente la cobblestone Cioè abbiamo finito la cobblestone Assurdo Vabbè Ragazzi vado a fare un po' di cobblestone E ci rivediamo dopo Che vi devo dire Eh Sì che cazzo fa Questa parte Tipo la spezia la metto all'inizio Allora rieccoci ragazzi che c'è un creeper Porco 2 Ragazzi c'è un problema Perché io queste cose Le devo fare la notte Perché non ho un letto E quindi ovviamente Non ti permettere Non ti permettere di farmi Esplodere Ok Ok Perfetto ragazzi Abbiamo distrutto questi mostri Che ci volevano fare le cose brutte Mettici le torce in casa poi sul pavimento Ok Intanto Continua Vabbè Ne faremo un altro strato Tanto sono tre gli strati Quindi Continuiamo a sistemare un attimo la casa Sperando che nessun mob Arrivi Questa l'abbiamo messa male Ok Ok Cerchiamo di fare il giro giro tondo Perfetto Ok Sistemiamo Questo pezzo Qui Ma io direi un altro Che dici Glielo facciamo un altro Pezzo sopra Oh Faglielo E tanto abbiamo un altro stack Che c'è Ok Perfetto Poi riusciamo a fare il tetto Vediamo se riusciamo a fare il tetto Raga Ok Eh E' un altro Il tetto Non lo so Eh vabbè No Non riusciamo a fare il tetto Che bello Eh GG Devo andare a fare un altro stack Eh Vado a fare l'altro stack Ragazzi arrivo subito Eh Devo fare poi l'attrezzo Per fare la lana Per tasare le Ecco E non è questo Piuma No Ma scusa Se le ammazzano Mi danno direttamente il blocco di lana Sì però Quando tipo fai la farm E ti servirà la lana Con le scesoie Le pini direttamente Eh sì Ma quelle sono cose molto difficili da fare Io mica sono un pro player di Di minecraft Non nemmeno io però Ok ragazzi Eccoci Abbiamo fatto un altro stack A mezzo Cioè Raga assurdo Per fare la mia casa Qualcosa di pazzesco Ci stiamo mettendo Allora Cerchiamo di chiudere qui Il tutto Per avere anche Una casa un po' più grande Più spaziosa E tutte queste robe qui Nel frattempo Si è fatto anche mattina Nel gioco ovviamente E quindi Eh Dovremmo più o meno Chiudere Eh Il tetto No Fare una sorta di tetto Io però volevo farlo Raga Tipo Tetto a Ora ve lo faccio vedere Anche per fare una cosa carina Non Un quadrato così Senza alcun Cioè Senza niente Cioè Senza Un tocco Uno stile Una roba del genere Quindi Facciamo Il punto per salire E poi Metteremo Dovremmo fare così Ok Perfetto Così che possiamo fare Il pezzo Sopra Adesso vi spiego E cioè È una cosa che Comunque Molto carina Quindi Vediamo un po' Se ci riesce Facciamo tutto il giro Ma mi sa che non basta Di nuovo La cobblestone Cioè È assurda sta roba Raga È davvero assurda Vabbè Intanto facciamo il giro Com'è Ok Perfetto Manca di qua Ok Ecco lì Metti Bravo Ok Anche dall'altra parte Anche lì No Ho sbagliato Eh vabbè Eh Eh ma Ma tutti questi sbagli Dark Eh si lo so Si lo so Allora Facciamo così Ok Rompiamo qui Vedi avete capito Cosa voglio fare Sì Che poi da qui Vedete come si vede Molto figo Vero Eh 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 Le cose che fa Dark Eh Ok Ragazzi Ritorno a fare di nuovo Un po' di cobblestone E ci ripetiamo Tra pochissimo Scusate però Purtroppo La prossima volta Mi Prenderò tutto Tutto quello che c'è qua Ragazzi Ho fatto male i calcoli Eh si Avrò fatto un po' I mali i calcoli Dai Arrivo ragazzi Tra poco Ok ragazzi Rieccoci di nuovo Abbiamo fatto un altro stack e mezzo Speriamo adesso di concludere Perché veramente ragazzi Ok Mettiamo la sabbia Questo per salire Ok Perfetto Quindi Continuiamo a chiudere Di nuovo Il tutto Ok Comunque sta avvenendo molto carina A me piace Quindi Però qui non capisco perché Non lo so Forse farò poi qualche modifica Vedremo Più in là ovviamente Eeeh 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 E devo cadere E devo cadere Ah bene Ok Cerchiamo di chiudere anche qui Perfetto Ovviamente una volta ogni tanto Ci sta che qualche piccolo sbaglio si fa Però dettagli Eeeh E qui lo metti E qui lo metti Sì Allora Sì sì Facciamo così Così E così Sì Sembra una piramide Faccio direttamente così Apposto La piramide No comunque Facciamo così Che è molto più carino Da vedere Le metti alle pareti E adesso qui Io non so se ragazzi Sto facendo bene Se vi piacerà Se non vi piace Però comunque Commentatevi sotto nei commenti Bravo Commentate nei commenti Ditemi se O comunque la tazza vi piace Ovviamente questi spigoli Io li sto facendo Per una cosa che poi farò Più in là Che non vi spoilerò Poi lo vedrete Pian piano che continueremo Continueremo la serie Intanto qua dentro Mettiamo le torce Ovviamente Perché se spawnano qua dentro I creeper E mi esplode la casa Io mi uccido Ovviamente Ok ora ti consiglio Ho visto dove hai fatto la porta Di metterci Tale modo Che Passi A due blocchi Che la mia casa ormai è diventata La casa La casa chiesa Cosa? Ho visto dove c'è la porta Sì Ecco ci metti Un altro Blocco Ecco Vai Perfetto E ora puoi fare le porte Ok Adesso ci faremo aiutare Dal nostro amico Showazzo E dal nostro amico Nico Come cazzo si fanno le porte? Adesso dobbiamo prendere il legno Perché non ce l'hai Allora il legno Dobbiamo prendere il legno Io ce l'ho il legno Ho gli assi di betulla Ok allora Crafting table Andiamo subito alla crafting table Vai Gli assi Tre blocchi Hai visto no Per dritti Così Sì E ora dall'altra parte anche Di qua? Sì Ah Ah proprio così Sì Ah ok Una e due Eeeh E dove siamo? Mamma mia ragazzi No E perché non si chiude da sola? E perché non c'è Cioè non c'è Scusa le Va bene Va bene sì Non è un problema Non è un problema Non è un problema Non è un problema Allora rimettiamo questo qua Ok Quindi qua L'abbiamo fatto Adesso Ragazzi Andremo a rompere Aspettate perché io devo vedere prima se c'è qualcosa Ok Questo qua me lo acciappo Qua Andiamo a rompere La crafting table Andiamo a rompere la crafting table E i due Ehm Le due fornaci Le due fornaci E le andremo a mettere Ovviamente Qui Ok Poi Dobbiamo creare Dei fare il giro tondo Con quale? Con l'asse di betulla Ok Ah Buono Ok Ne facciamo due Perfetto E questi li piazziamo Un Ma Ma Pum pum Ok Perfetto E andiamo a mettere tutte Le cose che Ovviamente Non dobbiamo usare Mettiamo questi Questi Bla 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 Pollo Questi 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 Però Questi qua Questo E questo Lo lasciamo Perché ci potrebbero servire Per fare i blocchi Proprio da Queste le mettiamo qui Cioè Stiamo sistemando più o meno l'inventario Questa la lasciamo qui E questi Questi li piantiamo Ragazzi Aspettate un attimo Perché Mettiamo intanto Questo qui a cuocere E prendiamo Prendiamo questo E glielo lasciamo uno Mentre lui cuoce Ok Dobbiamo cercare Un po' di mangiare Intanto la casa Più o meno L'abbiamo già creata Ragazzi Che dire Dal vostro Dark Chaos 92 È tutto Io ringrazio Showazzo Per essere stato qui Con me Per avermi più o meno Aiutato Grazie Showazzo Showazzo A posto Prego Dark Ringrazio anche Nico Per la sua Tra virgolette Collaborazione Nico è morto E niente ragazzi Io vi ringrazio ancora Per tutti quei like Che avete lasciato E adesso Vi sfido Vi sfido perché Perché nell'episodio precedente Siamo arrivati a 31 like In questo episodio Se ne volete Un terzo Dobbiamo Andare Ad arrivare A 51 like Se arriviamo A 51 like Vi porterò Il terzo E dico Terzo episodio Quindi Spolliciate A più non posso Condividete Questo video E supportatemi Ovviamente Come lo fate Ogni volta Lasciando sempre like Mi raccomando Ovviamente Come vi ho già detto All'inizio Vi lascio il link In descrizione Del canale Di Showazzo Andate Passateci Lasciatevi like Mi raccomando Al suo ultimo video E iscrivetevi Se non l'avete fatto Ragazzi Perché è importante È importante Aiutare gli amici È importante Aiutarsi A vicenda Io ragazzi Che dire Vi ringrazio ancora Per essere stati qui con me Noi ci vediamo Alla prossima Woohoo I'm singing like Girl you know I want your love Your love was handmade For somebody like me I'm coming now Follow my lead I may be crazy Don't mind me Say boy Let's not talk too much Wrap on my waist And put that body on me I'm coming now Follow my lead I'm coming now Follow my lead Lui I may be crazy I'm coming now Lui